Buonasera, eccoci nuovamente insieme per imparare a leggere e a scrivere. Io direi però di più, per imparare a conoscere meglio il mondo e noi stessi. Adesso potrei farvi una domanda, che cosa ho scritto? So che voi non potete leggerlo, ma proprio per questo siamo insieme, per superare questa difficoltà, questa, diciamo, limitazione che ci frena un po'. Bene, ora io cercherò di scriverlo in un'altra maniera. Guardate, comincio da questa prima parola. Grazie a tutti. Voi qui avete potuto leggerle, perché? Perché io ho scritto per immagini. Ebbene, questi stessi segni, pino, mare, nave, casa, sono, diciamo, delle immagini simboliche, anche queste. Sono dei simboli. Attraverso questi simboli noi possiamo scrivere ciò che vogliamo e possiamo leggere ciò che gli altri uomini hanno scritto. Il modo di fare la trasmissione, io me lo inventai lì per lì, pensando solo a quello che era la televisione. Il problema era, se devo fare scuola attraverso la televisione, devo far sì che non posso fare scuola quando sto con i ragazzi.